Rivolgo una benedizione alla Carovana di Pace, che in questi giorni è partita dall'Italia per l'Ucraina, promossa da varie associazioni, Papa Giovanni XXIII, Foxiv, Procivitate Cristiana, Pax Christi e altre. Insieme con generi di prima necessità, portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino e oggi offrono rami di olivo, simbolo della pace di Cristo. Ci uniamo a questo gesto con la preghiera, che sarà più intensa nei giorni della Settimana Santa.